OSTUNI NOTIZIE Io ritengo innanzitutto che il tema della salute non sia né di centrosinestra né di centrodestra, perché quando si parla di un diritto inviolabile, uguale quello della tutela della salute, credo che si debba essere quanto più seri e affidabili possibili. Bisogna cercare di evitare strumentalizzazioni, soprattutto sotto la campagna elettorale. È chiaro che siamo tutti alla ricerca del consenso attraverso quelle che sono le nostre idee, i nostri progetti e le nostre politiche. Però ritengo che l'ospedale e la salute delle persone siano cose serie, sulle quali si debba avere un atteggiamento e un approccio particolarmente delicato e sensibile, qual è ovviamente la materia. Io ritengo che la questione ospedale, in particolare mi riferisco a quello che ha dato poi avvio a questa serie di video e di risposte da parte di alcuni esponenti politici, sia la questione probabilmente meno importante dell'ospedale. Al di là del fatto che i lavori di ristrutturazione, che siano consistiti comunque in interventi abbastanza esigui per quanto riguarda ovviamente la struttura, siano stati completati totalmente o non o la sfilata dell'inaugurazione sia effettivamente tale o meno e sia stata opportuna, probabilmente sono cose che lasciano il tempo che trovano e che riguardano appunto quella che è la propaganda politica e il livello forse meno utile alla collettività della propaganda politica. Io ritengo che in queste elezioni regionali e per la prossima legislatura si debba lavorare sull'ospedale e si debba lavorare per ripristinare la funzionalità totale e completa del nostro ospedale restituendogli i posti letto che il piano di riordino prevede e soprattutto, come ho già detto, cercando di restituire all'ospedale quella che è la piastra ancora incompleta da oltre 15 anni. Io purtroppo non devo ricordare a me stesso che da quasi 15 anni già c'è lì quell'opera incompiuta e ovviamente sentire a ridosso delle elezioni questo interessamento spasmodico per l'ospedale da parte di qualcuno sia di centrodestra sia di centrosinistra credo che non sia utile a nessuno e ritengo allo stesso modo che probabilmente quella piastra sarebbe rimasta lì al di là del colore della coalizione. La cosa che purtroppo manca ad Ustuni è un rappresentante politico e istituzionale in seno al Consiglio regionale. Questo non mi stancherò mai di dirlo, l'ho già detto, in campagna elettorale. Quindi probabilmente non sarebbe cambiato nulla se Ustuni non avesse all'interno del Consesso regionale un rappresentante. Dobbiamo anche cogliere l'opportunità derivante dalla riorganizzazione dovuta al periodo di emergenza epidemiologica. L'ultimo piano di riordino Covid è stato licenziato il 3 di agosto ed è stato licenziato prevedendo l'attivazione all'interno dell'ospedale di Ustuni di otto posti letto di terapia intensiva ed è da lì che dobbiamo partire e da quel punto dobbiamo iniziare a lavorare per ripristinare alcune importanti funzioni dell'ospedale e probabilmente dobbiamo combattere perché le battaglie vanno fatte e soprattutto quando vale la pena di essere combattute. Dobbiamo combattere affinché attraverso l'introduzione e l'attivazione di questo segmento dell'emergenza urgenza si possa poi avere una serie di conseguenze magari anche attraverso la riattivazione di alcuni reparti che ormai da noi mancano da diversi anni. Quindi l'appello che faccio è quello di affrontare questa campagna elettorale approfondendo le tematiche anche e soprattutto ci mancherebbe altro quella della sanità ma con un approccio quanto più scientifico e serio possibile alla problematica evitando spettacolarizzazioni che secondo me nuociono soltanto a chi le pone in essere.